ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi ho pensato di fare questo tutorial per con questo gufetto piccolissimo come vedete metto qui le due euro è un'applicazione che si può mettere su una borsa su un cappello non lo so dove volete ma anche così sono carini magari ho pensato siccome vedete c'è questo buchino qua vedete sulle orecchiette e avevo pensato di applicarlo al cannavaccio della cucina per poi appenderlo sal ci sono i cannavacci che non hanno i gancetti invece questo è proprio carino lo applico sul cannavaccio e poi lo attacco allora però anche per i bambini che vanno a scuola poi dopo ve lo dico anche nel tutorial che magari per una tuta che si fa un buchetto vabbè comunque all'immaginazione la vostra allora il filo il filo che ho utilizzato questo è un numero 5 se non sbaglio e questo forse è più fino del 5 questo saranno 8 forse e usate quello che vi piace di più di filo gli avanzi che avete perché ne serve talmente poco e per farli così piccolini io ho utilizzato l'uncinetto 125 chiaramente più il filo è grosso più l'uncinetto è grosso e più il gufetto viene grande magari per un cannavaccio potete farlo anche più grande perché tanto vedete qui siccome c'è un pippiolino e una catenella c'è sempre un buchino in più più grande e per appendere il nostro cannavaccio ok che cosa serve a parte l'uncinetto 125 i colori io ne ho usati 4 1 2 3 4 il bianco e poi una perlina seguite quelle perline piccolissime che ci si fanno anche i braccialetti e questo è una fila perline però potete fare pure un ago insomma sempre se la perlina ci va dentro lago se tante volte non avete la perlina potete fare un nodino non cambia niente la stessa cosa oppure fare due puntini di nero una crocetta come vi pare non c'è altro da dire non mi pare basta tutto qua ok vi lascio subito al tutorial ciao a tutte allora iniziamo subito il tutorial prendiamo un il cotone questo è un numero 5 quindi voi se usate questo tipo di cotone con un uccinetto 125 la grandezza del gufetto sarà questa più o meno potete vedere con un pochino più grande dei due euro ovviamente filato più grande con un uccinetto più grande verrà più grande su questo non ci piove allora iniziamo subito facendo un anello magico e all'interno facciamo otto maglie basse quindi una catenella sarà la nostra prima maglia bassa e poi otto maglie basse andiamo a stringere l'anello chiudiamo con una maglia bassissima eccola qui una catenella e tagliamo il filo cambiamo colore allora prendiamo prendiamo il giallo eccoci qua con il giallo entriamo in una maglia in questa una catenella una catenella e andiamo a fare una catenella se ci riesco e subito nella stessa facciamo una maglia bassa andiamo avanti in ogni maglia sottostante erano otto facciamo due maglie basse alla fine del giro avremmo 16 maglie basse quindi due maglie basse in ogni catenella sottostante alla fine avremo contatele 16 maglie basse andiamo quindi a chiudere come sempre con una maglia bassissima facciamo una catenella di chiusura e tagliamo il filo questo tutorial si realizza solo in quattro giri e qui l'abbiamo tolto adesso passiamo al verde allora mettiamo l'uncinetto in una maglia qualsiasi di queste 16 e facciamo iniziamo con una catenella in questo modo come parola principiante oggi allora una poi facciamo un'altra catenella che sarà la separazione e poi andiamo nella catenella successiva facciamo una catena una maglia bassa e una catenella di separazione quindi in ogni maglia sottostante faremo una maglia bassa una catenella saranno 16 maglie basse e 16 catenelle adesso sempre con una maglia bassissima chiudiamo una catenella per fare per bloccare il tutto e cambiamo colore e ho pensato di fare queste queste applicazioni che potete fare anche più grandi perché i bambini che vanno a scuola spesso rompono i pantaloni delle tute invece questa cosa carina da poter diciamo utilizzare anche per mettere una toppa su una tuta allora andiamo a prendere così sono entrata nella parte dove c'è la catenella la catenella di separazione e faccio una catenella poi vado sempre nella stesso spazio dove ho fatto l'inizio e faccio un'altra maglia bassa una catenella vado nello spazio questo qua praticamente dove c'è la catenella di separazione e faccio nuovamente una maglia bassa una un'altra maglia bassa quindi sono due maglia bassa nello stesso spazio e una catenella di nuovo una maglia bassa di nuovo sempre nello stesso spazio una maglia bassa e una catenella quindi facciamo tutto questo giro mi ripeto due maglie basse nello spazio nella catenella di separazione e una catenella di separazione e facciamo tutto il giro ora andiamo a fare le orecchiette queste qui alla chiudiamo intanto con una maglia bassissima qua facciamo una due tre catenelle poi scusate io non so se si vede bene allora se sto qui perfetto allora tre catenelle una due catenelle in più che ci serviranno per un pippiolino che andiamo a chiudere nella terza catenella che abbiamo fatto con una maglia bassissima poi facciamo una maglia alta nella maglia successiva nella stessa delle catenelle scusate nella stessa delle catenelle facciamo una maglia alta e una maglia alta successivamente ecco qua poi facciamo una mezza maglia alta nella maglia successiva una mezza maglia alta e ancora un'altra mezza maglia alta sempre nella maglia successiva ed eccoci qui ora facciamo una maglia bassa sempre una cosa in ogni maglia di nuovo due mezze maglie alte una una maglia alta dicevo allora una maglia alta due catenelle chiudiamo nella in alto dove la maglia alta chiudiamo con una maglia bassissima ed ecco qua le orecchie eccole qui tagliamo il filo e poi sistemiamo le codine ora andiamo a fare gli occhietti eccoli qua ecco allora gli occhietti sono facilissimi allora facciamo sempre un cerchio magico e all'interno facciamo la prima catenella catenella oggi sono una principiante proprio ecco una catenella dicevo e altri cinque maglie basse quindi questa è la seconda la terza la terza la quarta in tutto sono sei cinque maglie basse e una catenella giriamo tutto e tiriamo tutto l'anello magico chiudiamo con una maglia bassissima e ovviamente chiudiamo con una lasciamo un po il filo un po lunghetto perché ci serve per mettere gli occhietti allora noi facciamo un altro uguale a questo allora che facciamo io ho vedete due perline di queste nere se non ce le avete potete fare magari con il filo nero un nodino è la stessa cosa non cambia niente allora io ho questo questo coso qua che è proprio per infilare le perle perché queste specialmente hanno il buchino molto piccolo e quindi potrebbe non entrarci un ago normale allora questo che ci abbiamo chiuso non quello che ci abbiamo fatto il il cerchio magico ma con quest'altro vedete lo andiamo a mettere esattamente al centro ecco qui così intanto sparisce poi prendiamo una perlina eccola qua e andiamo a rimetterlo qua e nello stesso tempo l'appoggiamo proprio nel gufetto così ed ecco qui l'occhietto adesso pure quest'altro facciamo la stessa cosa facciamo la stessa cosa lo passiamo sotto in questo modo da quest'altra parte ecco guardate che questo è più antipatico ok lo sfiliamo e lo andiamo a mettere bene ecco e a fare un nodino qua dietro ecco e abbiamo finito il tutorial ovviamente gli occhi sono due eh del gufetto ecco facciamo un nodino fermiamo le codine tagliamo i fili e il nostro gufetto è pronto eccolo qua un po' cieco un gufetto cieco ok oddio a perlina ecco per fare l'altro occhietto tutorial finito molto semplice quindi se ricordate se magari utilizzate un filo più grande ovviamente era più grande questo è come i due euro ok grazie per aver visto il tutorial fino alla fine spero che nel frattempo vi siete iscritti al mio canale lasciate ovviamente un like un commento se vi è piaciuto ciao ciao ciao